molto caldo io ho una vera e propria mania per la carne mi piace ben cotta e non mi piace quando si raffredda che bello adesso grazie a premium chef la carne non si raffredda mai perché la piastra mantiene sempre la temperatura ideale e tutti questi cibi li possiamo trovare nel nostro ricettario esattamente isabel nel nostro ricettario